Vai! Mani lo... Io sono il brasiliano, te lo metto in testa, in culo e mano Poi vado da Tio al cielo, glielo, glielo metto dentro il cielo Poi vado da Gallagherino, me faccio fa' un merbocchino Poi vado da Manny in fresh, mi è stascia tutta la stessa Cambio dei vizi, uno più piano Oh, questo è SMR, questo è SMR, ce lo faccio io Vai! Senti, Manny Lo stai facendo Manny? Che sta fa' un... Manny? Manny? SMR, senti Vai! Vada, vada Oh, ma te lo vedi, eh? Ma sei un bravo! Che fa' che sta mangiando? Eh, un microfono! Ha buro troppo con la gola che sta andando a tirare sulle bolle La Moster, sono diventato un Moster Anche lei! Dai! Aveva una vagina Lei, no! Vieni, chi te lo vedi? Rivaldo, riballo! Vai! Cosa devo fare? La vagina Come cazzo? Vai! Ma non era quelli Ma non era che ero Ma io per un pazzo Beh, è pesante quando... Non era che ero No, beh, è vero Non era che ero Ma è pesante quando... Non era che... Brasile, dai, fallo tu Che faccio? Io col culo lo posso fare, vabbè eh bella batteria che ci vuoi oh per una volta a uno settembre sette l'ho visto proprio a te che è successo? non ho capito che ha detto? che ha detto? eh tesoro mio vieni qui che la gente vuole vederti fate un po' di domande a lui ma allora quanti hai? quanti hai? sono legali finalmente sono legali sono legali sono legali appena fatti 1200 eh non so siamo due io non sono una vecchia cazzo come eravate 18 anni voi? io non credo io ero incredibile a 18 anni ero un torero e adesso quanti anni hai? adesso sono vecchio e quanti anni hai? ora ne ho 20 oh more che cucciolo no vabbè dai il cucciolo no guarda sono vecchi tre io allora sei un cucciolo dai tre anni in più cosa sono? eh sono qualcosa e tu facci il canale sulle rare? beh qui il contatto è un attimo Michael sì mi sto scrivendo io scommetto le palle che tu almeno una volta in vita tua ti piaceva uno più piccolo ma guarda che io sono sempre con i più piccoli cazzo allora non piccoli non avevo mai un ragazzo più vecchio di me? mai? mai? perché? mai? non lo so ho dei problemi non te lo facciamo dire no ma se la c'è delle domande a queste due a queste due ma che c'è? cara mi sta andando male la connessione cara vabbè 1,7,2,7 domande interessanti raga io vi saluto che devo fare ASMR un bacione grazie mille a tutti quanti ciao 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 un bacione Lucy ciao Lucy mo ti mettiamo un mezzo a cielo toccati il tuo mamma mia rega eh si sta fannoigliando no eh schiocca tu ah abbavia ecco qua mi sono messo pure in posizione per prendere i tuoi schiaffoni allora adesso siamo quanti siamo Alvis eh 4.000 grazie grazie aspetta 4.000 siamo sì ma peccate che sono uscite nei donzelli no una figa è un po' di più sai io ma io ho mangiato due senti di pizza ti ho messo almeno da voi esiste just it qui minchia devi chiamare il taxi andare a prendere il cibo e parte da portare a casa o al lago de copo poterlo partire così spendi soldi come si dice crazy pazzo ok cosa è la più pazza tatuaggi che avete fatto è più pazzo il tatuaggio più pazzo esatto io io ho questi in fascia qua ho fatti quasi tutti in galera questo qua ma quanti quanti tatuati tu hai io tutto 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 il corpo tutto il corpo va bene che sexy allora adesso adesso che siamo in pochi vogliamo dire che tra me te non c'è odio c'era vogliamo dire che me ne sono pulato da mettere io non faccio outing oggi capito sta nel luto io se sta solo se viene pure Gabriele ando va a fare la batteria io del lui non possiamo far entrare altri ospiti adesso siamo questi ospiti di questo oh mi dici Michael dove cazzo sta Michael non gli va male la connessione a Michael meno male Michael me lo calice a chiano vado lì me lo calice a chiano me lo calice mi sono tutto dentro all'armo ho tutto a Firenze è giusto ragazzi siamo solo noi adesso ragazzi quindi se avete curiosità chiedete su allora senti Elvis siccome stiamo uno due concentriamoci sulle domande adesso si possono fare capito fammi domande cominciate a fare domande dai chat allora ecco gli altri non hanno risposto più pazza tatuaggi che hanno fatto no c'è ragione vai al cielo tatuaggio il passo e c'è il cane passo ok allora tu hai fatto in prigione non tutti però no tutti ovviamente non ti ho chiaro però un paio ci sto ci sto tranquillo anche io l'ho fatto questa cazzata però non ancora un nome però c'è una diversa alcune che voglio bene quando finisce la diretta di una cosa c'è dopo ti domano un messaggio dai su continuate io invece oltre alla mano ci ho scritto anche i Joker sul petto bravo easy e ne vado mi piace ma è possibile che 4.000 persone in diretta scefano la domanda parlano tutti solo di una persona ma guarda sai perché nessuno ha fatto male ah ok ok perché io studio psicologia allora faccio una domanda faccio allora diventa per il momento diventa tu la nostra la nostra presentatrice inizia a farle tu vai la nostra Freud ok va bene allora io provo a capire voi cioè come state da persone intera eh che capirai questa che ti metti matta te no perché non mi conosco c'è per nulla no non è non è c'è perché non sono fan ma solo perché io sento altro musica perché canto e così faccio altre cose e comunque allora vi chiedo tutti quante ragazze sono stati insieme cioè siete ragazzi ragazzi che stanno insieme con ragazze o no c'è allora vallo io ok vai allora io al momento sono felicemente fidanzato ciao Alice la saluto anche se ormai c'è là con me me sta quasi a lasciare io la saluto e io sono qual'era la domanda quante ragazze con chi sei stato insieme sono stato con parecchie ragazze ma ne ho amate poche e diciamo Alice allora quale ti hai amati cioè quante quante erano per la mia vita una ok va bene io vai Gallagher vai su io sono giovane quindi non parlo no a me mi vado a parlare delle alze eh sì con vent'anni lascia stare ma no ho avuto le mie esperienze però non so un po' ma no non dico che no non ho detto niente con Federica la mamma mia no 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 Federica Federica sta parlando che sono sola nessuno vuole venire allora tra poco viene Emeni allora io io gli faccio la domanda a tutti quei 4.000 o 5.000 che ci stanno seguendo a me dite una cosa ma che ci avete un giro a seguire 5.000 vediamo che ti risponde Elvis Gala che era grandissimo Gala Ficco anche Tama Siete il futuro poi vabbè ho offeso su di me allora 1727 è vero che ci sono venuti a prendere sotto casa a me a me mi vuole tutta Roma cosa hai combinato scusa tutto è colpa di Brasile a mia rompe cazzo a tutti poi ti dicono Brasile va bene sono uguale tranquillo guarda che noi siamo qua io sono qua io sono qua io sono qua io sono qua il potere schiavo guarda se Gala si ha rotto il cazzo su di me vuole che torna Menni sai Gala che si è rotto il cazzo su di me vuole che torna Menni perché hai fatto una domanda scopola eh vabbè è importante per la psicologia capire queste cose se no vabbè vi posso fare tipo come si dice guardo voi e dico come siete dal dentro io sono molto sensitiva sì e che senti che signore sei che signore vai a Paolo Fox cosa me la cia la mano ho messo la sentitiva però sono pazza cioè non fatemi incazzare è chi è un chime sa che fa una cotta fa una cotta chi è più pazzo come sa sì lei è pazzo bravo chi è pazza anche lui è pazzo hai della riete sì noi secondo me io e brasiliano brasiliano andiamo d'accordo che segno sei sembra così cucciola per voi che segno 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 vibra cioè bilancia borgia ebrahimo bilancia bilancia di lo scorpione eh ma guarda che non sono molto bilanciata sai ma un po' da dove nasce 1727 da combinazione dalla cassaforte da arpina del cellulare cosa volete chiedere la cosa che avete mai visto la cosa più pazza che avete mai visto in vita vostra è la più pazza è la più pazza vista mi padre mi padre che la scelta a mano che ho bevuto appresso che me l'ho accettato a petto con gallagherito dietro che con la presa a me va a vedere quella roba lì cos'è wow 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 si è tatuata la pianta del piede fallo vedere vai vai mamma mi sto faccio wow aspetta com'è che è ah eccolo ma che è la pianta del piede sottuata vedi come stiamo ma che c'è scritto vabbè io ho 26 tatuaggi oh mi padre mi padre sotto la pianta che c'è scritto a uno sono stanco all'altro anche io sotto i piedi sono stanco anche io te ne vai dormire no sotto i piedi cosa mio padre sotto i piedi ha tatuato sono stanco anche io ah capito e sono arrivato adesso all'altro piede o il mondo c'è come come una map bravo bravo un mapa al mondo però o così c'è o ho tatuaggi che lascia stare c'è è sparito so faccio aio eh so faccio sto stanco